L'esperienza di volontariato internazionale in Sicilia prevede la formazione gratuita dal 29 aprile al 7 maggio 2022 e sarà obbligatoria per completare il processo di selezione. Come spiega l'associazione Informa Giovani, tra i profili richiesti ci sono quelli di animatori socioeducativi, volontari, operatori giovanili attivi nella propria realtà sociale e locale. L'età richiesta è quella compresa tra i 21 e i 35 anni, serve conoscenza della lingua inglese a livello avanzato ovvero B1 ed avere già maturato un'esperienza nella gestione delle attività di gruppo e inoltre richiesta anche la patente guida B. La retribuzione di 500 euro lordi con contratto di lavoro a prestazione occasionale per candidarsi sarà necessario compilare il modulo di candidatura entro non oltre il 18 aprile dal sito monicchiocciolainformagiovani.net. La relazione in due fasi prevede la valutazione delle informazioni fornite dai candidati tramite il modulo di candidatura e poi il periodo di formazione gratuita al termine del quale sarà valutato il candidato stesso. La retribuzione è di 500 euro lordi con un contratto di lavoro a prestazione occasionale. Per candidarsi è necessario compilare il modulo di candidatura entro non oltre il 18 aprile direttamente dal sito dell'associazione Informa Giovani. La selezione si divide in due fasi prevede in un primo momento la valutazione delle informazioni fornite dai candidati tramite il modulo di candidatura e poi il secondo momento quello del periodo di formazione gratuita al termine del quale si saprà se si sarà selezionati per l'incarico.